Cronaca con la vicenda su cui si sta ancora delineando, cercando di capire i particolari. Un uomo di 69 anni è stato trovato morto lungo le scale di un condominio in pieno centro a Pescara in Corso Umberto. L'uomo è di Montesilvano, è stato trovato morto per una telefonata fatta al 118 forse da un condomino, da un residente nel palazzo e quindi è stato trovato, è stata disposta l'autopsia. Al momento non si sa molto di più, sono in corso sopra luoghi e accertamenti affidati ai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. Il PM Anna Benigni, titolare dell'inchiesta, ha disposto l'autopsia da un primo esame visivo, tuttavia il cadavere non presenta tracce di violenza. Sembrerebbe esservi una correlazione con un vicino bed and breakfast dove forse l'uomo si stava recando o dal quale usciva. Di certo però c'è che non sembra che l'uomo fosse registrato in questo bed and breakfast. L'ipotesi è di morte naturale. I carabinieri sentiranno nella giornata di oggi tutte le persone residenti in questo palazzo di Corso Umberto, proprio nel cuore del centro pescarese, per capire anche se qualcuno conosceva l'uomo. La moglie di questo uomo, trovato morto nel condominio di Corso Umberto, 94 a Pescara, è stata informata.